Il mio auspicio è che sempre di più impariamo a tener conto e che sia primario il bene comune. Il bene comune io credo che sia un must oggi, perché altrimenti non ne diamo fuori, non ne diamo fuori. Quindi avere a cuore il bene comune. E allora credo che sia il messaggio che io do davvero in questa situazione così importante anche per noi Liguri. Il bene comune è sempre stato al centro dell'attenzione politica di questo nostro territorio, secondo lei in questi anni o no? Secondo me è stato presente. Il punto cruciale è come vogliamo declinare questo bene comune. Il punto non è dire lo spot del bene comune, ma come vogliamo declinarlo. Questo dobbiamo farlo insieme, perché ci sono ovviamente punti di vista diversi, storie diverse, situazioni diverse, pareri diversi. Ma quanto è importante che li mettiamo assieme perché al centro ci sia sempre più il bene comune.